I mercati finanziari hanno fatto già il minimo e hanno già iniziato una fase di reazione. Il minimo è stato fatto su tutti i mercati, criptovalute compreso. Questa è la domanda che in questo momento frulla in testa a tantissimi investitori perché ovviamente se hanno fatto già i minimi mercati vuol dire che in questo momento ragazzi sono diventate occasioni di acquisto. Domanda è, i mercati finanziari hanno toccato il livello più basso e da qui in poi si riprenderanno, torneranno a crescere? Fra un paio d'anni avremo l'SP500 di nuovo su nuovi massimi? Fra un paio d'anni avremo Bitcoin di nuovo sopra i 12-13 mila dollari? Nel video di oggi andiamo a guardare i grafici per cercare di rispondere a questa domanda in maniera scientifica. è oculata. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Iniziamo la settimana con un video estremamente interessante e anche molto attuale in base a quella che è effettivamente questa fase precisa dei mercati finanziari. Negli scorsi giorni il presidente degli Stati Uniti, Trump, ha fatto una serie di dichiarazioni che hanno messo di buon numero i mercati, che oggi hanno aperto in grande lustro, in grande effervescenza. Cosa ha detto Trump? Ha detto in sostanza che probabilmente il picco in alcune città relative alla pandemia è stato già raggiunto. Ha fatto l'esempio di New York. Perché i mercati hanno preso benissimo questo tipo di notizia? essenzialmente per il fatto che sembrerebbe che la crisi relativa a questa pandemia sia più veloce nella sua risoluzione di quello che si aspettavano. Quindi in pratica dovremmo uscire più velocemente. È vero o non vero? Il presidente Trump ci ha abituato spesso e volentieri a fare delle dichiarazioni che poi vengono smentite dopo poco, pochissimo tempo. Il presidente Trump quindi ha esagerato, ha enfatizzato, come fa sempre, su una serie di motivi per aiutare i sistemi economici è un po' anche il suo obiettivo. Vengono fatte anche per dare fiducia al mercato e togliere un po' dei timori che effettivamente si verificano in queste situazioni. Quindi giusto fare questo tipo di dichiarazione. Sta poi al mercato a ragionare un po' e a dire probabilmente la verità. È a metà. Questo è il motivo in parte, ragazzi, dell'ottimismo dei mercati di questa mattina ma andiamo a vedere se poi succederà quello che è già successo nella scorsa settimana. All'ottimismo avuto in opening, quindi in partenza, immediatamente consegue una vendita da parte magari di istituzionali e di conseguenza dopo la vendita, ragazzi, i mercati riassorbono quello che era il loro ottimismo mattutino. Questo è un segnale particolarmente negativo se dovesse avvenire. Anzi, ragazzi, facciamo una cosa. Se vi interessa ragionare su questo segnale, cioè quando i mercati si riassorbono e da un più 4, per esempio, passano a un 0 o un più 1, cosa significa questa cosa dal punto di vista di trading e di investimenti, se è pericoloso o meno? Se volete sapere questa cosa ci faccio anche un video a riguardo, ma scrivetemelo nei commenti, ragazzi. Andiamo quindi a rispondere alla nostra domanda. I mercati hanno fatto il bottom o meno. Andiamo a guardare i grafici perché i grafici non mentono mai e cerchiamo di capire quando possiamo dire che su un mercato abbiamo fatto un bottom che durerà anche nei prossimi mesi. Andiamo sui grafici. Bene, siamo di nuovo sui grafici per quanto riguarda Bitcoin. Guardiamo al volo, un bel balzo questa mattina, ragazzi, però ancora impatta sulla resistenza a 7000 dollari che non riesce a rompere. Non mi è piaciuto per niente il 2 aprile quello che aveva fatto con questa candela, ve la faccio vedere in maniera un po' più grandetta, ragazzi, e la metto anche in sottolineatura. Guardate un po', questa candela, ragazzi, brutta, brutta candela, però, ragazzi, sempre la solita speculazione, vedete, aveva fatto anche qui lo stesso tipo di atteggiamento Bitcoin, diciamo, è solito, in questo periodo, insomma, sta un po' tentennando. Ci sono una serie di idee che ho al riguardo e di cui vi renderò partecipi nei prossimi video, ragazzi, del canale relativamente proprio all'atteggiamento di Bitcoin negli ultimi giorni. Quindi iscrivetevi al canale, ragazzi, se volete stare sempre aggiornati, non volete perdere questi nuovi aggiornamenti sul re delle cripto. Allora, resistenza a 7000, importante, ma qual è il livello chiave in questo momento, ragazzi? Il livello chiave intanto è chiudere un daily sopra i 7000 come resistenza. E su qui non ci piove, ragazzi, però guardate qui, qui abbiamo un livello a 7283 che ha toccato, appunto, il famoso 2 aprile con uno spike incredibile riassorbito dopo pochissimo tempo e poi abbiamo la media mobile qui che è intorno a 7500, ragazzi. Quindi io farei così, inserirei in questo momento ancora una volta questo tipo di resistenza come una resistenza chiave, quindi questa è una fascia, ragazzi, una fascia di estensione. Anche se chiude oggi all'interno di questa resistenza, quindi sopra questa resistenza a 7000, non dimostra forza in questo caso più di tanto, quindi dimostra forza ma non in maniera eccessiva perché non ha superato i massimi della candela del 2 aprile e poi comunque ha questi scogli che è quello della media mobile a 50 periodi molto importante. Da un punto di vista ciclico poi c'è un problema di fondo, ragazzi. Questa fase che dalla settimana scorsa vi avevo definito essere un nuovo ciclo mensile è una fase che tecnicamente dovremmo andare poi a chiudere, quindi a fare in sostanza il nostro classico atteggiamento così. Vi avevo dato la settimana scorsa dei prezzi raggiungibili dal re delle cripto intorno a 7500-8000 dollari quindi tutto normale, poi bisognerà purtroppo aggiornarci nei giorni prossimi per capire se effettivamente il mercato potrà continuare questa sua fase di recupero dai minimi incredibili del giorno sul 13 marzo scorso. Passiamo invece a vedere Ethereum che in questo momento galoppa un po' di più di Bitcoin come sempre fa nelle fasi di volatilità, quindi aumenta un po' di più e perde anche un po' di più. Ancora una volta qui vediamo la fascia 160 come re di resistenza, Ethereum ha superato i massimi del 2 aprile quindi dimostra un po' più forza nel breve periodo di Bitcoin, ma c'è poi questa super fascia da aggredire e poi c'è sempre il problema della close ciclica, ragazzi, che dovrebbe avvenire tra la fine di questa settimana e la prossima. lo stesso vale anche per Bitcoin. Quindi per rispondere alla domanda, il bottom è stato fatto, ragazzi, sui mercati delle criptovalute ancora non è possibile dirlo, perché siamo ancora sotto queste due medie, ragazzi, quindi è possibile un ritorno sui minimi, sì. C'è da dire che l'estensione del 13 marzo sui mercati criptovalute è stata molto importante e c'è da dire anche che i mercati delle criptovalute, ragazzi, al di là di una situazione di panico non risentono minimamente della situazione economica dovuta al rallentamento del ciclo di produzione dovuta alla pandemia, perché non c'entra assolutamente niente, infatti il ribasso del mercato cripto è stato più indotto da un problema di natura riflessiva, quindi emotiva. Ragazzi, ma ne ne parliamo in un nuovo video su questa cosa, oggi facciamo un po' più tecnica di trading che considerazioni. Scongiurato il ribasso non è perché i mercati non hanno ancora indicato una strada di ripresa reale, ragazzi, e vi faccio anche vedere perché questa è una gamba di correzione da una gamba ribassista, quindi è la classica A, B, ok? Questa è una A, ragazzi, e poi mancherebbe questa, che è la C. Tecnicamente questo è un classico trend di ritracciamento di un ribasso, quindi in questo momento l'analisi tecnica ci dice che i mercati criptovalute non hanno fatto il bottom e che è pericoloso in questo momento una fase di rialzo per il lungo periodo. Non sono io personalmente tanto convinto del fatto che i mercati cripto possono scendere al di sotto di questi minimi in maniera così violenta. Probabilmente il mercato tentenderà, prenderà un po' di tempo, o almeno spero, ragazzi, quindi non sono convintissimo sul fatto che, perché insomma questo minimo è stato veramente molto profondo, ragazzi. Comunque, purtroppo, l'analisi tecnica e anche la ciclica ci indicano che il bottom in questione relativamente ai mercati cripto potrebbe ancora essere aggiornato, quindi non è stato fatto il minimo. Questo ci dicono gli indicatori, al di là della mia opinione, ragazzi. Passiamo sullo Standard & Poor's 500, quindi l'S&P 500, che è ovviamente il faro del mondo, questo è il future, ragazzi, quindi è già aperto, ci indica che nella giornata di in questo momento sta facendo più 3,40, grazie alla parola di Trump. Questo è un grafico settimanale, non andiamo a fare ciclica su questo, ancora, guardate, questo volevo farvi vedere, insomma, vi tolgo un po' di... Guardate la settimana precedente, questo rialzo è totalmente immerso nella candela precedente, la vedete, perciò in questo caso questo tipo di rialzo è una candela inside, si definisce così, cioè è totalmente insignificante da un punto di vista di trend all'interno di un trend di medio periodo, in questo caso stiamo guardando il settimanale, perciò da questa candela, anche se è più 3,40, non abbiamo alcuna indicazione di una ripresa vera dei mercati. Quando potremmo indicare una cosa del genere? Già se i mercati, magari, se l'S&P 500 inizia a fare un trend che va al di sopra di 2.700 o 2.800 punti, allora già qui potrebbe essere considerata una fase di ripresa, al momento, ancora una volta, così come per i mercati cripto, questa è un classico ABC, ragazzi, e ve lo rifaccio di vedere, quindi probabilmente potremmo assistere alla famosa gamba A, la correzione, e io scrivo malissimo, ragazzi, mi dispiace, con il mouse non riesco, e poi la C, ok? Quindi questo è un classico ABC. Bottom fatto sui mercati old? Ragazzi, ancora una volta, no, perché i mercati old, anche se hanno avuto una grossa ripresa, guardate, tutte le candele precedenti sono inside, ragazzi, incredibile, ma vero. Questa è la candela di ripresa, ma i massimi non hanno superato la settimana precedente, né questa, né questa, e questa addirittura è un inside alla precedente, quindi significa presa di fiato, ragazzi, per chi fa analisi tecnica, per chi è un trader, sa che questo movimento della candlestick, la lettura dei prezzi, quindi la price action, ci dice che il mercato ad ora, in questo momento, per questa settimana, appena iniziato, dovremmo vedere come finirà, sta riposando. Poi una rottura, un break di questo livello, configurerebbe un trend positivo nel breve, ma non c'è nessun segnale, ancora una volta, nel lungo periodo che questo livello sia stato il botto dei mercati. Vi faccio vedere in chiusura il Futsimib, mercato a cui sono particolarmente affezionato, perché l'Italia, ma è anche stato il mio primo mercato, il mio primo strumento finanziario, il future del Futsimib Italia, che io ho tradato con i sistemi di trading, con i trading system e l'analisi quantitativa, e quindi ci sono affezionato da sempre, ragazzi. Livello, ancora una volta, molto similare a quello che abbiamo visto nel mercato americano, quindi molto simile, oggi sta facendo più 2,80, ma ragazzi, non c'è nessuna inversione. Anzi, vi dirò di più, guardate nella settimana la presenza del classico triangolo, vedete, di continuazione di un trend ribassista, che tecnicamente dovrebbe poi essere rotto per la continuazione del trend di ribasso. Bene ragazzi, allora, abbiamo visto che sui mercati cripto e sui mercati old, non possiamo considerare il bottom appena fatto nel mese scorso di marzo, come un bottom di fine trend ribassista, perché ancora i mercati non danno segnali accettabili, quindi a meno che di una V, quindi l'inversione a V per vendetta, ragazzi, cose estremamente rare, a meno di un'inversione di questo tipo, in questo momento l'analisi tecnica non ci indica un'inversione di trend. Sulle candele settimanali abbiamo visto che, in sostanza, è solo fluttuazione, quindi rumore intorno ad un livello medio. È vero che vediamo delle oscillazioni abbastanza forti per quanto riguarda questi mercati, in effetti ci sono, perché non ci hanno abituato, diciamo, a queste oscillazioni di mercati old, ma in realtà in questo momento sono naturali, ragazzi. Mercati cripto, invece, Bitcoin, soffre questo legame con l'S&P 500? Sì o no? Facciamo che io vi presento una mia analisi, che sto finendo. Lasciatemi un mi piace su questi video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e fatemi sapere nei commenti che cosa state combinando. Ciao a tutti, ci vediamo nel prossimo video.